Tennis and Friends, settima edizione, anche tu presente, oggi giocherai anche a tennis. Quanto è importante la prevenzione? La prevenzione è importantissima, ma è importante soprattutto organizzare eventi come questo, perché questo è un evento dove viene unito sport e prevenzione, che sono due tematiche che stanno benissimo insieme ed è bella la gioia che si respira nell'aria legata comunque alla prevenzione, quindi alla salute. Io sono un affezionato di questo evento perché vengo tutti gli anni praticamente, se posso, se sto a Roma. L'ho sposato proprio ideologicamente, quindi fino a che ci sarò, fino a che lo faranno e spero che lo faranno per tanto tempo ancora, io ci sarò sempre. Contro chi giocherai oggi? Non lo so, io non so neanche se gioco, io ho portato le cose, ma diciamo che non sono molto ambito come compagno di doppio. Perché? No, non so, no, gioco benino, però è tanto che non gioco. No, non lo so, sono appena arrivato, adesso giocherò, insomma, mi metto a disposizione, quindi se c'è da giocare gioco, sono qua pronto. Grazie. Prego, ciao. Ciao. Ciao.